Il percorso fatto appunto dalla prima band Antonio Ruggero, Carlo Marrare, Aldo Stellita, Giancavo Golzi e Piero Cassano Grande band, poi c'è stata un attimino un po' tutta l'evoluzione della band Ma noi andiamo avanti con un grande successo di Mattia Bazar Che si chiama così, c'è tutto un mondo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti